No ma se ne vedo Wow wow wow, grandi amici del tubo Ben ritrovati qui sul canale Switchy Music ragazzi Siamo qui come potete vedere con The Witcher 3, Wild Hunt E siamo qui perché dobbiamo parlare con Irina Reinhard E iniziare lo spettacolo teatrale signori Sì sono qui Oddio sì vabbè non sono prontissimo ma possiamo iniziare No Zulta che mica ci fa qua No è venuto a prendermi per il culo ma no Devo concentrarmi va bene se lo dici tu Eccoci qua ragazzi è lo spettacolo Signore e signori vi presento nessuno Sì devo recitare nei miei stessi panni Nei panni della principessa Priscilla signori Che cast mamma mia da Oscar Standing Ovation ancora prima di iniziare A caso proprio Anche i gatti sono a guardarci Bene vediamo come comincia quest'opera Trepidante attesa del pubblico direi E tra questo pubblico ci dovrebbe essere anche Dodo Che indica questo? Ah beh Eccoci qua sul palco signori Ma devo dire qualcosa? Eh ok Uccide i most... Uccide le bestie più vili Stava finendo il tempo E se ne va così Mamma mia va bene Lo spettacolo stava finendo tutto la grande Quando a un certo punto Ah stanno inquadrando questo qui Ok ok aspettate ragazzi Mi sa che l'abbiamo trovato eh Guardia Guardia raus Guardia a casa Guardia 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 Ah Lei ha fatto finta di chiamarle guardie Figo Ah, figo L'abbiamo beccato cos'è i tac E finisce così, BAM, con la rima Mamma mia, signori Cazzo vuole questo? Ok, la vedo male Rissa, però a 10 secondi Bene, e rissa sia Vi spago la maccia Posso usare i segni? Sì, grande Ok, fuori 1 E fuori 2, perfetto Adesso, quello lì diventa di mia proprietà In questo modo Qui, ciao bello E andiamo a uccidere questi qui Dai l'ultimo, dai l'ultimo Crepa, ok, perfetto Missione aggiornata, Benone Parla con Dudu Nella stanza di Rinna Reinhard Fantastico ragazzi E la divina tragedia è andata alla grandissima, signori Eccoci qua ragazzi Siamo sul luogo dell'imboscata Allora, praticamente Vi ho saltato il dialogo Perché praticamente era una cosa veramente inutile Tutte cose già sentite Adesso Il nostro amico Dudu Prenderà le sembianze di Meng E andrà a dare l'ordine di trasferire Dandelion E noi faremo un'imboscata Tutte cose già capite Negli episodi precedenti Beh, Dio Gesterebbe Sospetti che qualcuno Dica Liberate O così A caso Cazzo Che palle E così devo anche difenderti No Va bene dai, resta Sì ma a grande distanza Che se ci succede qualcosa No, no Sto cazzo Che giochiamo a Nguent Ok, stanno arrivando ragazzi Dai quest'imboscata C'è un po' di gente Mi pare Cosa c'è lì? Oh Non è armato prima Ah, eccoci Era No Merda Hanno preso Dandelion Non morite Mi raccomando Ecco le tracce Dai Stanno seguendo questo Sentiero qui Non è proprio Difficilissimo Raga Ah Porta in questo villaggio Eh sì No, un fabbro No, no Fermi tutti Fermi tutti Un fabbro Non è che mi fidi molto di questo Ma come paesano Stavi battendo il coso No, palle Vabbè Mi serve Sto cercando un fabbro Assolutamente Perché devo forgiare due spade Che ho trovato super forti Comunque Continuiamo la ricerca Ragazzi Ok Abbiamo trovato qualcosa Nuovo indicatore Cappanna isolata C'è qualcuno Il cavallo What? Merda Com'è collassato Povero Parliamo con questi nani Ah Ecco dov'è Allora Volete liberarvi o no? Ah Perfetto La chiave La porta nei setterranei Sul retro Signori Allora ragazzi Eccoci qua Nuovo indicatore Entrata Sblocchiamo con le chiavi Che ci hanno appena dato E apriamo Usiamo la scala Tec E Sbucchiamogli Alle spalle A quegli stronzi Cacciatore di strega Ah Sentiamo già i suoi dialoghi Allora Su per questa scala Dovremmo sbucare Sotto di loro Vediamo Vediamo un po' Ah in un'altra stanza Ok perfetto Sfondiamo sta cazzo di porta E apriamo il culo Eccoci qua Ah vuoi fare a botte? Dai Oh Bam 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 Nivello 13 Però non è male Occhio eh Che cazzo Geralt Che cazzo fai Non bloccarti Porca puttana Oh ma com'è E mori c'è Schiva Grande Dai Mori Oh Non mori mica Dai che adesso vai giù Dai che adesso vai giù Bam E via la testa signori Slega Dandelion Va bene Vediamo Finalmente signori Saranno 10 episodi Che li corriamo dietro Finalmente L'abbiamo trovato Eccolo qui Sleghiamolo E sentiamo La storia Che ha da raccontarci Si va bene L'avevo manipolato Come volevo Non dire strazzate Per piacerla Eccoli qui gli altri due Sarà contenta Priscilla Che carini Si avevo un piano perfetto Questo ho già capito Che dice Ce l'ho stronzate Dov'è Siri Bravo Andiamo Al sodo Quando l'hai vista L'ultima volta Scusami Giusto così Per dire una cosa Eravamo sull'isola del tempio Ok Ah Perfetto Torniamo nei panni di Siri Ragazzi Vediamo che succede Cerca una Ah ecco Fuggi verso l'isola del tempio Ok Merda Quanti cazzo sono Via 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 Nivello 9 Vabbè dai Sti 3 quali Li ammazzo proprio Easy Adesso vi beccate questa Tech Mamma mia Double kill Signori Che spettacolo Te mori Manca ancora uno Cazzo Guardate Quanti cazzo Di pallini Ci sono Sulla minimappa Ma what the fuck Scappa vecchia Scappa Giù di qui Giù di qui Giù di qui 60 metri Ok Dovremmo essere vicini Quanti No Vabbè Cosa What Spero di non doverli uccidere tutti Vero Mamma mia Però Guarda quanti Mamma mia Spacchi tutto Con questa Mamma mia Bella stabilità Spacca di brutto Raga Adesso usiamola di nuovo Tech Bam 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 Mamma mia Spettacolare Spettacolare No Cosa Non è vero Mi ero Mi ero Mi ero Mi ero Teletrasportato Porca La puttana Non è vero 2.000 Adesso proviamo a scappare Tipo senza uccidere Praticamente Nessuno A parte Sto coglione qua Che ha provato solo ad attaccarmi Quindi lo spacco a metà Però vabbè Dettagli Cerchiamo di darcela Proprio a gambe Senza pensare A uccidere A gente Perché ho notato Che oltre ad essere Tipo in 50 Continuavano ad arrivare E questo poteva essere Un problema Diciamo Logistico Allora Questi ho paura Che li dovrò uccidere Però sono tanti Ma in confronto a prima Sembrano pochi Dico solo questo Usiamo la nostra Super mega Iper Figa Figherima Abilità Ok Non è morto Nessuno Fuori uno Perfetto Ce l'abbiamo di nuovo Bam Boom Bam Tchau Pin Mamma mia Che figata Che Oddio E volato un braccio Ok Benissimo Ce ne siamo liberati Fuggi verso l'isola del tempio Vai Sfonda sta porta Bravissimo E parte un filmato Che cazzo Ma R è quello? No Merda Siamo intrappolati? Non sto facendo niente Ragazzi Mamma mia Taglia la gola Merda No 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 Ehi Non me morì eh Bam Mamma mia Che finisher signori Non la vedo benissimo Però eh Dandenion Che cazzo te guarda No No Non mi dire che si prende la freccia Ah è vero Cogione E l'ha beccato Ma va Guarda Sto Ma guarda come Idiota di merda Che cazzo stava succedendo Vabbè Quindi Praticamente Mi sa che anche lui Non sa dove è Siri Alla fin fine Grazie Mi ha dato sufficiente materiale Per un volume di ballade E questo Sceglie come Hotcakes Grande Perché mai dovrei preoccuparmi di lei Ok ma che cosa Madonna Questo lo prendo a pugni eh Ah Ok ma ce l'abbiamo noi Quel cofanetto È morto figlio di puttana Caro Dandelion Sai a cosa serve il cofanetto? Una maledizione Ah ok Sai dimmi qualcos'altro Su questa maledizione Caro Dandelion Ma che sta di vecchio Eh non significa niente E tanto meno Madonna ma Sei di in tralcio Dandelion Io ti ho cercato Per millemila episodi Devo trovare Siri Direi Dammit that's just not enough Siri say anything else Didn't say much at all To be honest Geralt She's no longer That little girl Who ran around Kaer Morhen Sure She's still impulsive Alive But she's also Stubborn Sulky Apple didn't fall Far from the tree Let me tell you She's still impulsed She's still impulsed Again I was so close She came here from Velen Somebody there helped her Apparently Maybe she went back Ah Iene a Skellig A Skellig Lì non so quando come Cazzo si dica Skellig Ah ok Perfetto Allora abbiamo una meta in realtà Non molto precisa Però Torniamo al team Rosemary Va bene Va bene Dandai non verrò a trovarti Tranquillo È stato un piacere salvarti Alla fine sei stato utile Circa Ciao cari Bene signori Direi che abbiamo completato Questa missione Abbiamo guadagnato anche Un bel trofeo Missione completata Come potete vedere Allora adesso Non ci rimane che trovare Una destilezione Per Skellig E andare a cercare Seed L'ultima delle tre zone Della mappa E del gioco rimasto Quindi non manca Tantissimo Secondo me Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Per seguire questa serie E tanti altri video Lasciate un bel commento E ci vediamo nel prossimo video Bella